Villaggio San Marco, ore 13, immondizia gettata sotto i nostri occhi proprio lungo la zona del passeggio, oltre al parco delle Manine, dall'altra parte della strada. Perché butti per terra le carte? Devo prendere signora. Sì, ma non si buttano per terra le carte? Sì, sì, lo so, lo so che sia, lasciami così. Ho capito? Ma è dopo le raccogli? Sì. Va bene, dopo ripassiamo per vedere se le raccolpe. Passa il tram, l'immigrato sale e la spazzatura resta, per terra, sul verde, ma l'abbandono qui è anche di chi, per conto del comune, lascia le panchine inaccessibili perché rotte, lerce e marce come questa. Torniamo nel parallelo quartiere a Ritusa. Oggi, come sabato, nulla è cambiato, anzi è peggiorato. Ecco dove si abbandona il verde, appena tagliato, per terra. Qui, con il parcheggio selvaggio, si abbandonano anche le auto, forse oggetto di rapine e furti. Il problema è che dopo essere stato chiamato le forze dell'ordine, i vigili hanno fatto una verifica sulle targhe e hanno trovato due veicoli alle vostre spalle che erano praticamente senza revisione, quindi con revisione scaduta e l'assicurazione non era stata pagata, quindi scoperta di assicurazione. E poi ci sono le macchine in sosta selvaggio davanti ai cancelli delle case lasciate per ore e giorni da chi va verso Venezia o isole. Siete quasi prigionieri nelle vostre case? Talvolta è difficile uscire anche qua, ci sono stati anche i liti. Perché uno non può arrivare a parcheggiare la domenica pomeriggio e tirare via la macchina dove l'ha parcheggiata il lunedì dopo, ma non il lunedì del giorno dopo, di sei giorni dopo.